È arrivata la divergenza, una divergenza ribassista su Bitcoin, una divergenza che si va a strutturare sul grafico daily e che abbiamo già visto in tempo fa, quindi poche settimane fa, ma anche in passato, ed è una divergenza di cui vi avevo accennato anche in qualche video, che bisogna vedere cosa, dove ci porterà, perché non è una cosa anomala e soprattutto quasi sempre indica solo una strada e non è una strada buona, diciamo così. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, il tempo sembra stringere per Bitcoin, mancano pochissimi giorni probabilmente alla strutturazione di un nuovo massimo importante, se non l'ha già fatto, è una giornata di ieri, che è venerdì, che ha tirato su, l'altro ieri ha tirato su un massimo intorno ai 38.400, perché questa struttura di questa divergenza, che adesso vediamo che indicatore, ci dà una informazione importante e in questo video andiamo a sviscerare questa informazione, un video special, perché in effetti potrebbe essere che abbiamo i giorni contati, ma sicuramente abbiamo le ore contate per quanto riguarda il Black Friday, ragazzi, dei corsi, i miei corsi che trovate su Trading Gone, vi lascio il link in descrizione con le super offerte, solo un giorno a disposizione ormai resta, lunedì chiuderemo tutte le offerte e soprattutto quelle molto convenienti come il Pack Master, per esempio, non ritorneranno nei prossimi mesi, ragazzi, quindi date un'occhiata un po' a tutto quello che c'è dentro il corso, chi serve e chi non serve, ma io vi faccio anche vedere un'altra cosa, vi porto all'interno proprio della struttura della piattaforma, per farvi capire anche che cosa andate a trovare poi quando entrate. Allora, qui ci sono tutte le lezioni del corso sulla piattaforma di learning, ragazzi, tutti i moduli che vengono sviluppati, hanno all'interno diverse lezioni e il materiale è tantissimo, anche perché, guardate, questa lezione, per esempio, dura un'ora e ventisette. Allora, alcuni degli studenti mi hanno detto, Paolo, va a queste lezioni l'uno. Allora, a me non piace fare quei corsi dove io vi do 400 lezioni di 5 minuti l'uno. Allora, queste sono lezioni vere, ragazzi, lezioni che dovete rivedere abbastanza, insomma, e quindi, come si può vedere anche in questo caso, ci sono veramente 43 minuti, guardate quanto durano le lezioni. E sono lezioni tutte, questa 56, ecco, tutte importantissime. Poi alla fine ci sono le esercitazioni anche per ogni modulo del corso. Poi vedete qui, per esempio, i bonus che sono la strategia della CCT, quella con il quale ho vinto i vari contest, insomma, di trading e che viene anche utilizzata in Academy grazie a un nostro analista, Giovanni, che la sviscerata, gli è piaciuta così tanto, che se ne è appropriato la sviscerata ed è bravissimo, insomma, a indicare anche quando questa strategia può essere applicata in diverse criptovalute, non solo Bitcoin. Il modulo sull'analisi ciclica, che è quella introduttiva in generale, e poi una serie di approfondimenti, anche altre cose, strategie operative di ogni tipo. Poi, per chi prende anche il modulo con il premium, che vi consiglio vivamente per entrare in Academy, ragazzi, non vi fate perdere l'Academy, perché è fondamentale, insomma, il learning by doing, per quanto riguarda i corsi e la formazione. Qui trovate poi tutta la struttura, per esempio, anche all'interno dell'Academy, c'è anche una corso mini, con una serie di cosette importanti, tra cui anche qualcosa di analisi ciclica, poi diversi tutorial, eccetera. Questi sono più contenuti basic. E poi l'intera Academy, invece, è su Discord e ci sono tanti canali, talmente tanti canali, che abbiamo deciso di sviluppare un bot per dare la possibilità ad ogni singolo utente di personalizzare quali canali vedere e quali no, perché sono troppi. Cioè, il materiale è così tanto che sostanzialmente, a volte, è meglio semplificarlo. Voi sapete che sono un minimalista. Allora, Black Friday, ancora solo un giorno, non vi fate scappare questa occasione. Andiamo a vedere la divergenza, vi lascio il link in descrizione. Questa è una divergenza che su Bitcoin è andata a costruirsi su l'RSI, ragazzi. Allora, questo è un indicatore RSI smoothing, cioè è una media, non è l'RSI, in questo caso, che voi state vedendo, ma state vedendo la media dell'SI, quindi una media semplice, un periodo di 11 giorni, ma io non li cambio quasi mai questi qui, insomma, li lascio standard, perché in realtà non cambiano granché, visto che non li utilizzo in termini operativi come trigger, ma li utilizzo come indicatori, appunto come nascono, come indicatori, e perciò il più o meno un punto non cambia assolutamente niente, questo è concettualmente. Allora, qual è la questione qui che bisogna andare a vedere, ragazzi? C'è una evidente divergenza di Bitcoin con il suo RSI. Ora, le divergenze sono di due categorie, come spiego all'interno del mio corso. Ci sono delle divergenze che possono essere semplicemente delle fasi di respiro del mercato e delle divergenze che invece indicano una perdita di forza da parte del mercato di spinta al rialzo, che significa l'RSI in quanto indicatore, ragazzi, non indica un ipercomprato o un ipervenduto, indica la forza di un trend, quindi bisogna andare per step. Lo so che magari qualcuno di voi ha sentito dire che l'RSI si usa in ipercomprato o ipervenduto, l'utilizzo dell'RSI con tecniche di ipercomprato o ipervenduto risale agli anni 90 ed esce fuori da quando questo indicatore è stato creato per trovare delle aree e fare il famoso sell the app by the dip. Però non funziona nella stragrande maggioranza dei casi perché in sostanza la struttura matematica di questo indicatore non è una struttura che ci dice ipercomprato, ci dice iperforza, ok? Questo è un discorso diverso, quindi quando noi ragioniamo e diciamo ma ipercomprato allora crolla, no? Invece noi dovete ragionare a iperforza e che significa? Eh beh, è bello forte, solo quando l'RSI esce dalla fase di iperforza come in questo momento. Che sta, ve l'ho solo inventato io iperforza, ragazzi, e quindi mi raccomando, copyright, caimbi, iperforza. Ok, allora, quando esce dalla sua struttura di iperforza indica che questa spinta rialzista del mercato, quindi in questo caso i bitcoin, sta perdendo forza. Cioè l'accelerazione di forza del mercato si sta riducendo. Questo significa che come se immaginate una navicella spaziale che a un certo punto, vi prendo la mia penna dell'hard rock, ragazzi, non si vede più, non mi mette la telecamera, vettimi a poco, non lo mette a poco, eccolo qui. Mi prendo la mia penna dell'hard rock, ovviamente catena che io adoro per diversi motivi. Allora, mentre in pratica stiamo salendo, immaginate quello che può essere un missile, uno shuttle, è come se fa questa curva. Ok? Ve l'ho fatto proprio in esempio pratico. Questo significa perdita di forza, cioè la spinta di propulsione, si sta esaurendo. Questo che vuol dire che crolla il mercato, lì è un'altra fase, ragazzi. Cioè, una cosa è il dato, quello che l'RSA ci sta comunicando, e ci sta comunicando che la forza del mercato di bitcoin si sta esaurendo. E questo è oggettivo. Poi c'è anche un'altra questione da andare a vedere, cioè il mercato sta continuando a salire con sempre meno forza. Perciò si crea una divergenza. Da una parte il mercato indica un trend rialzo, dall'altra l'indicatore RSI ci dice, attenzione, che questo trend rialzo è sempre meno forte rispetto al precedente. Questo significa che potrebbe girare. Cioè, sostanzialmente, questo trend potrebbe toccare, la spinta di forza potrebbe arrivare allo zero e diventare negativa, e quindi invertire il suo trend. Ma la conclusione al dato che noi troviamo adesso oggi con l'RSI non la abbiamo, ragazzi, in maniera intuitiva. Poi, quella è una seconda parte che adesso andiamo a fare e dobbiamo ragionare su alcune ipotesi. Quindi, il dato, la parte oggettiva. L'RSI ci dice, bitcoin sta perdendo accelerazione rialzista e c'è una divergenza. Ora, cosa significa in questo contesto specifico? Perché questo è un altro tipo di attività, ed è l'attività dell'analista, ragazzi. L'analista poi deve andare a dare un giudizio su quella indicazione e, ovviamente, più è bravo l'analista, più quel giudizio sarà corretto o magari nel lungo periodo con n campionature, diciamo n volte che si va a utilizzare quella strategia e diventa oggettivamente corretto. Allora, qui la questione è semplice. L'RSI è in divergenza, bitcoin ha una struttura di fase ciclica un po' particolare e un po' pericolosetta, perché questo lo vediamo nel video di domani, ragazzi, non ve lo voglio anticipare, sennò qui viene un po' fuori un po' tutto quanto. La struttura dell'analisi ciclica può indicare in effetti che stiamo andando verso i massimi del ciclo annuale, se il ciclo annuale non è stato già chiuso e siamo in forma ternaria, ma non ne parliamo di questo, ne vediamo domani. Infatti, non vi dimenticate l'appuntamento, ovviamente, domani, ragazzi, sempre sul canale. Oggi è un video special, perché stiamo facendo il video della domenica special, volevo farvi vedere questa cosa che ho visto stamattina ricontrollando i miei grafici. In pratica, in questa zona qui, la struttura della resistenza di Bitcoin sta facendo da tappo al movimento, quindi il fatto che l'RSI andasse a indicare che la spinta e il rialzista, il rallentamento della forza di accelerazione c'è stato, è una cosa oggettiva, ma è anche dovuta alla presenza di una super resistenza. Quindi, primo punto dell'analista, questo dato di spinta rialzista che perde forza è dovuto al solo mercato, alla presenza di un tappo molto importante, in questo caso è alla presenza di un tappo molto importante che è una resistenza. Tra le altre cose, è dovuta anche al concetto che stiamo salendo ai massimi storici dell'anno 2023, e Bitcoin ha fatto un più 130%. Quindi, comunque, ragazzi, volenti, conolenti, è uno degli asset, o se non il migliore dell'anno 2023, perciò molti magari non mettono nuova liquidità, non mettono carne al fuoco, aspettano magari di vedere cosa succede. Siamo vicino a una resistenza, siamo ai massimi storici del 2023, siamo a scadenza dell'anno e tutto il resto, è ovvio che magari un pensierino in più lo faccio se devo andare a posizionare milioni e milioni magari in una posizione del genere. E quindi si va a generare un decremento dell'accelerazione, seppur questo fiato finale di questa spinta. Allora, come si va a risolvere questo problema? Solo in due modi si risolve questo tipo di problema. Primo, l'RSI deve scendere al di sotto dell'aria della centrale tra i suoi livelli di percomprato di solito 70-30 circa, quindi intorno in pratica a 50 deve continuare a scendere e il mercato lateralizzare, quindi fare più o meno quello che sta facendo perché adesso io vi ho fatto vedere un trend rialzista ma in realtà questo trend rialzista dalla... in questo momento è più laterale, cioè da questo punto in poi è diventato un laterale dalla 8 di novembre è diventato un laterale. È vero che tende a fare nuovi massimi ma li spunta un po' come si fa la spuntatina al capello però poi rigira indietro. Quindi in realtà è un laterale rialzista. Quindi potrebbe continuare a lateralizzare e far sì che questo indicatore si vada ad affiancare a questa zona. Zona molto importante. Perché ragazzi? Perché da lì potrebbe riprendere la seconda fase propulsiva perché l'indicatore RSI una volta che si scarica cioè ritorna in fase normalizzata intorno più o meno alla sua metà non indica più nulla. Quindi sostanzialmente non serve a niente andarlo a vedere. Da lì in poi ci dice semplicemente tutto può succedere in pratica. L'unica indicazione che ci sta dando è quella di adesso cioè ci sta dicendo questa spinta propulsiva è sgonfiata. Quindi è pericoloso in questo momento il mercato. Quindi cosa bisognerebbe fare? Bisognerebbe agire di conseguenza mettendo degli stop o comprando delle dip quindi vicino al vostro livello di stop in modo tale da non assumere troppo rischio nei confronti di questo mercato. Andare short è giusto? No! Perché siete contro trend poi se avete strategie contro trend e tutto quello che state facendo e fate gli short trader perché siete preparati avete fatto formazione in corsi eccetera allora è giusto per voi ragazzi ma non è giusto per tutti cioè che è un discorso diverso perché bisogna seguire il trend sempre. Quindi non è che ci sta dicendo attenzione vai short oppure vendi no gli sta dicendo attenzione metti uno stop avvicina uno stop oppure semplicemente se entri in posizione long tieni presente che devi farlo a prezzi accettabili e mettere uno stop perché potrebbe invertirsi questo trend questo però potrebbe durare anche poco tempo perché nel momento in cui questo dovrebbe farlo già la settimana prossima si arriva qui l'indicatore RSI poi ci dice che ormai il suo quello che deveva fare l'ha fatto e perciò non abbiamo necessità in pratica di avere di avere nuovi minimi c'è però anche la seconda parte di questo ragionamento cioè la seconda e ultima spinta propulsiva che di solito un indicatore RSI in queste condizioni a volte diciamo lo indica è questo un po' il nocciolo del video e ve lo faccio vedere subito in pratica il concetto è RSI che va giù così e Bitcoin che va a lateralizzare un po' poi successivamente sale un altro livello l'RSI sale ma non riesce a ritornare a questo livello qui perché ovviamente servirebbe una spinta iper propulsiva quindi dovremmo andare sopra i 46 cioè molto forte può succedere ovviamente ma questa è l'ipotesi di solito più standard diciamo 57 60% diciamo delle volte fa così dopodiché ritorna a scendere quando il mercato si affievolisce e va a chiudere poi il suo la sua struttura di trend questa gambetta qui è bellissima e pericolosissima ed è quello che dovremo andare a vedere nei prossimi giorni quella gambettina lì ragazzi ma in base a cosa a questi ragionamenti che abbiamo fatto indicazione data dall'RSI dato oggettivo analisi fatta dall'analista dato aleatorio e soggettivo quindi è giusto quello che vi sto dicendo ce lo dirà solo il mercato è giusta la mia analisi in termini oggettivi di come state eseguita sì è giusta ma che poi sia giusta nei confronti del mercato quello è aleatorio il risultato è aleatorio però delle informazioni in più le abbiamo ragazzi perché intanto sappiamo che se fa questa gambetta qui stiamo con gli occhi parati così magari a mettere un take profit intanto sappiamo che se da qui iniziamo a scendere dobbiamo usare uno stop perché la situazione è pericolosa e beh volete dire che non è un'informazione aggiuntiva avete in pratica già definito quelli che sono i punti da andare a controllare nei prossimi giorni tra le altre cose vi faccio vedere anche che questo atteggiamento in realtà lo ha già fatto bitcoin nella fase iniziale di questo ciclo annuale a dicembre di quest'anno in questa zona qui era già stato avviato poi l'RSI a scendere guardate qui come in questo caso è più pronunciato perché fa anche la gambetta di bassista quindi in questa zona in questa zona si va a creare questa gambetta l'RSI già scendeva da qui però vedete già scendeva si va a creare poi fa il balzo bitcoin fa un altro massimo l'RSI ovviamente non ce la fa e si va in chiusura di quest'area fino ad arrivare alla zona di ipervenduto che significa ormai l'avete capito debolezza quindi in questa zona fatto così qui avremo esattamente questa ipotesi chiusa in questo modo screenshot e ci vediamo a gennaio come si suol dire vabbè allora andiamo a controllare insieme a questa più la sto tenendo d'occhio io personalmente volevo farvi partecipi di questa riflessione fatta proprio questa mattina con l'impulso domenicale black friday di trading corner non ve lo dimenticate link in descrizione solo un giorno ragazzi è veramente importantissimo avere formazione nell'ambito dell'investimento e del trading altrimenti queste cosette qui che abbiamo fatto non le riuscite a fare e poi sembra tutto astruso sembra tutto eh sì però avevi detto perché per capire certe cose bisogna conoscere prima altre cose quindi bisogna essere formati per capire quello che si sta dicendo e soprattutto quello che si sta facendo non dimenticate ci vediamo domani buona domenica a tutti